E' durata poco più di un mese la mostra ritratti artigiani, siamo qui nelle loggie del grano e sicuramente l'iniziativa ha avuto un grande successo. Siamo con uno dei promotori di questa bella trovata, diciamo così, perché proprio voi fotografi avete voluto fare un clic in più. Sì, è stata una bellissima esperienza, una bella esperienza di collaborazione, soprattutto tra noi fotografi, ma anche con gli artigiani stessi che si sono messi in gioco. Ci hanno permesso di tirare fuori non solo l'artigiano che è il loro, ma la persona stessa, l'intimo loro stesso, come uomo, come donna, ma soprattutto quel bambino, quei sogni da bambino che avevano quando pensavano e si immaginavano da grandi di poter fare il fotografo, di poter fare il meccanico o la lavandaia. Tutti questi momenti così intimi che sono venuti fuori in maniera ironica e simpatica. Ecco, un passaggio anche importante, tra l'altro in una location molto bella che si presta in maniera positiva a questa iniziativa. La location è fantastica, dal punto di vista fotografico è meravigliosa la luce che viene fuori da queste vetrate. E poi è soprattutto un luogo vivo, a differenza di altre mostre magari un po' chiuse, dentro se stesse. Qui è un posto vivo dove la gente viene, mangia, acquista, vede dei prodotti a chilometro zero ed è veramente piacevole. Bene, allora alla prossima occasione. Speriamo ce ne sia una presto. Grazie a voi.